Spero che vi abbia trovato qualcosa di utile. Tutto quello che potete aspettare per ottenere da un seminario è una o due idee. E' quello che fai con queste idee del tuo allenamento successivo che farà cambiare le cose. Perchè il cambiamento richiede tempo. Queste cose devono imparare velocemente. Le materiali sono per lavorare. Le materiali sono per lavorare. Non è distruttivo o conflitto. Deve mischiarsi con quello che già fate. Siete fortunati ad avere un buon istruttore. Una persona breve. Un buon insegnante. E ha la comprensione. E' arrivato alle mie stesse conclusioni simili. Dato da una simile esperienza. Sì. Quindi rimanete con Dario. Quindi rimanete con Dario. Avete lavorato tutti molto duramente. I giovani. Le donne. Avete lavorato in maniera tosta. Questo lo devo concedere al vostro istruttore. E grazie per avermi ascoltato. E grazie per avermi ascoltato. All right, thank you.